Buongiorno a tutti! Prima di iniziare mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella, per essere aggiornato e non perderti nulla. Infine, ascolta fino alla fine, perché ti accorgerai di quanto è potente il nostro messaggio e quanto ti aiuterà nella vita di tutti i giorni. Ma iniziamo subito! Oggi vi parleremo del grande genio italiano, Leonardo da Vinci. Nato a Vinci, in Toscana, nel 1442, Leonardo è considerato uno dei più grandi geni di tutti i tempi. Era pittore, scultore, architetto e scienziato. La sua curiosità e il suo desiderio di apprendere lo hanno spinto a esplorare molti campi del sapere. Infatti, oltre alla sua arte, è noto per i suoi studi in anatomia, ingegneria e astronomia. Uno dei suoi dipinti più famosi è la Gioconda, conosciuta anche come la Monna Lisa. Questo ritratto di una donna sconosciuta, con un sorriso enigmatico, è diventato uno dei dipinti più famosi del mondo. Altro capolavoro di Leonardo è l'Ultima cena. Questa grande affresco, che rappresenta Gesù e i suoi apostoli durante l'ultimo pasto prima della sua crocifissione, si trova a Milano, nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie. Leonardo da Vinci era anche un inventore. I suoi disegni mostrano progetti per macchine volanti, armi di guerra, strumenti musicali e molti altri dispositivi. Molti di questi disegni erano troppo avanzati per il suo tempo, ma hanno dimostrato la sua incredibile capacità di pensare in modo creativo e innovativo. Era anche un appassionato di anatomia. I suoi intricati disegni del corpo umano, basati su dissezioni autentiche, hanno gettato le basi per la moderna comprensione dell'anatomia. Inoltre, i suoi studi sulla natura e la geometria hanno influenzato la sua arte, dando vita a opere realistiche e dettagliate. Leonardo da Vinci era anche un musicista. È noto per aver suonato il liuto e si dice che fosse un eccellente cantante. La sua passione per la musica influenzava la sua arte e si può vedere nei suoi disegni di strumenti musicali. Era figlio illegittimo di Ser Piero da Vinci, un notaio, e di Caterina, una contadina. Crebbe nella casa di suo padre e ricevette una buona educazione, apprendendo lettura, scrittura, matematica e geometria. Apprendistato artistico Da giovane, Leonardo fu apprendista presso l'atelier dell'artista Andrea del Verrocchio a Firenze, dove apprese tecniche pittoriche e scultore. La sua prima opera conosciuta è Il Battesimo di Cristo, in cui collaborò con Verrocchio. Il giovane Leonardo dipinse il giovane Gesù Cristo. Leonardo da Vinci è noto per le sue citazioni sagge e profonde, molte delle quali riflettono il suo approccio alla vita, all'arte e alla conoscenza. Ecco alcune delle sue citazioni più simboliche. La semplicità è la massima sofisticazione. Questa citazione riflette l'idea che la vera bellezza e l'eleganza si trovano nella semplicità delle cose. Coloro che sanno sono in grado di fare, coloro che capiscono insegnano. Questa affermazione sottolinea l'importanza della conoscenza e dell'insegnamento come mezzi per il progresso. La conoscenza di tutti i tempi e di tutte le civiltà è contenuta nelle pagine di un libro. Leonardo da Vinci sottolinea l'importanza della lettura e dell'apprendimento attraverso i libri. L'arte è maestra di natura. Funziona come la natura stessa. Questa citazione enfatizza la relazione tra l'arte e la natura, suggerendo che l'arte dovrebbe imitare la bellezza e l'armonia presenti nella natura. Nessuna conoscenza è mai superflua. Leonardo credeva nell'importanza di acquisire conoscenze in una vasta gamma di campi, sottolineando che ogni forma di conoscenza può rivelarsi utile. La pittura è poesia muta e la poesia pittura parlante. Questa citazione sottolinea l'interconnessione tra l'arte visiva e la scrittura, suggerendo che entrambe possano comunicare emozioni e significati profondi. Osservare è il primo passo per la comprensione. Leonardo sottolinea l'importanza dell'osservazione attenta e della curiosità come chiavi per acquisire conoscenze e comprensione. Chiunque desideri di realizzare qualcosa di grandioso deve imparare a dominare l'arte del tempo. Questa citazione enfatizza l'importanza del paziente lavoro e della gestione del tempo nella realizzazione di progetti significativi. Le cose più belle sono quelle che scarseggiano. Leonardo riconosce l'unicità e il valore delle cose rare e preziose. Non prender mai un consiglio da chi ha malfatto. Questa affermazione riflette l'importanza di cercare consigli da fonti affidabili e competenti. Queste citazioni di Leonardo da Vinci rappresentano la sua profonda comprensione della vita, dell'arte, della conoscenza e dell'umanità, dimostrando il suo spirito curioso e la sua saggezza duratura. La vita di Leonardo da Vinci è stata ricca di segreti e curiosità intriganti. Anche se non è possibile confermare molte di queste storie, alcune di esse sono diventate leggende nel corso dei secoli. Ecco alcune delle curiosità più interessanti e misteriose sulla vita di Leonardo da Vinci. Scrittura speculare Leonardo aveva l'abitudine di scrivere i suoi appunti in modo speculare, cioè da destra a sinistra. Questo lo rendeva difficile da leggere per gli altri, ma era un modo per proteggere i suoi pensieri e le sue idee. Codice Voynich Esiste una teoria controversa, secondo la quale Leonardo da Vinci potrebbe essere stato coinvolto nella creazione del Codice Voynich, un antico manoscritto illustrato in una lingua sconosciuta. Tuttavia, questa teoria non è stata confermata. Disegni di animali fantastici Leonardo ha realizzato molti disegni di creature mitiche e fantastiche, come il drago e il grifone. Questi disegni potrebbero essere stati frutto della sua immaginazione o della sua passione per la natura. Manoscritti perduti Si stima che molte opere e appunti di Leonardo siano andati perduti nel corso del tempo. Alcuni di essi potrebbero ancora essere nascosti o dimenticati in archivi o biblioteche. L'arte culinaria Leonardo era anche un appassionato di cucina e aveva un interesse particolare per l'arte culinaria. Ha scritto ricette e disegnato strumenti per la preparazione dei cibi. Leonardo e i misteri La sua vita è stata avvolta da misteri e alcune teorie suggeriscono che potrebbe aver fatto parte di società segrete o aver avuto conoscenze segrete. Tuttavia, queste affermazioni sono spesso speculative. Poliglotta Leonardo era noto per essere un poliglotta e poteva comunicare in diverse lingue, tra cui latino, italiano, francese e persino il volgare lombardo, oltre a scrivere alcuni appunti in caratteri greci o arabi. Studio delle nuvole Leonardo ha dedicato molto tempo allo studio delle nuvole e del cielo, producendo numerosi disegni dettagliati e osservazioni sulle condizioni meteorologiche. Ingegno umano Leonardo da Vinci aveva un profondo interesse per la meccanica e ha creato diversi progetti di macchine e automi, alcuni dei quali erano straordinariamente avanzati per il suo tempo. Rapporti con la natura Leonardo da Vinci aveva un profondo rispetto per la natura e ha scritto molte osservazioni sulle piante, gli animali e l'ecologia. Era un ecologista antelitteram. Questi sono solo alcuni degli aspetti curiosi e misteriosi della vita di Leonardo da Vinci, che aggiungono fascino alla sua già straordinaria storia. Leonardo da Vinci morì nel 1519, ma la sua eredità vive ancora oggi. Le sue opere d'arte continuano ad essere celebrate e studiate, e i suoi contributi alla scienza e alla tecnologia sono ancora riconosciuti. Ricordiamo Leonardo da Vinci come un uomo che ha incarnato l'ideale del Rinascimento, un periodo di grande cambiamento e scoperta. La sua curiosità insaziabile e la sua abilità in così tanti campi del sapere lo rendono un vero e proprio poliedro. Grazie per averci seguito nel nostro viaggio attraverso la vita e l'opera di questo straordinario genio italiano. Speriamo che vi sia piaciuto scoprire di più su Leonardo da Vinci, l'uomo, l'artista, lo scienziato e l'inventore. Arrivederci! Se ti è piaciuta la storia di Iscriviti al canale, attiva la campanella e scopri le prossime storie speciali, che ti daranno momenti e concetti che ti cambieranno la vita. Oltretutto commenta, il tuo parere è molto importante per noi, sperando di poterti rispondere nel migliore dei modi. Grazie per aver visto il nostro video.